Allora noi per gli avanzi dell'uovo e al cioccolato abbiamo pensato ad una ricetta da fare a casa abbastanza semplice, si tratta di una melata al cioccolato fondente e una gelatina alle fragole. Allora bisogna scardare il latte, una volta il latte caldo bisogna aggiungere la gelatina che abbiamo precedentemente ritratata nell'acqua fredda. Prendiamo il cioccolato, lo mettiamo in una ciotola, lo sciogliamo a bagnomaria o nel microonde e versiamo il latte insieme alla gelatina in due o tre volte. Una volta fatto questo versiamo tutta la panna fredda in una volta e versiamo in appositi contenitori o in dei bicchierini. Poi prendiamo le fragole e i lamponi, li tritiamo insieme fino a che non esce una certa purea molto liquida. La scaldiamo, una volta calda mettiamo la gelatina dentro, versiamo sulla namelaca che avrà precedentemente preso in frigorifero e questo poi in tre ore è pronto per essere ricostato. Grazie mille! Grazie a voi! Grazie a voi!